Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono FrancoGames92 e oggi siamo in un nuovo video tutorial. Qui in questo video vi spiegherò come aumentare la visualizzazione e gli iscritti delle vostre pagine di Facebook, soprattutto dei canali di Youtube e aumentare le visualizzazioni dei propri video. Questo avviene tramite due siti, uno è addmifast.com e l'altro è hitlip.com. Parliamo del primo, bisogna comunque a parte registrarsi, cosa un po' ovvia, cliccare qui su trade for free now, così quando noi confermeremo la registrazione e faremo le login per la prima volta, noi già avremo praticamente dei 50 punti a disposizione. Come funziona quindi? Intanto faccio un attimo il login, in particolare noi con questi punti noi li cederemo ad altri utenti, i quali questi ultimi, in particolare metteranno mi piace nei video, comunque faranno delle visualizzazioni o si iscriveranno nei nostri canali. Però è essenziale prima di tutto, fare questa operazione, ovvero aggiungere, che so, cosa vogliamo, ad esempio, vogliamo del mi piace a una nostra pagina di Facebook. Quindi noi cosa faremo? Facebook likes, mettiamo un titolo, ad esempio mettete mi piace alla pagina, un esempio così ragazzi, e poi andare a mettere qua il link della nostra pagina, quella che sarà www.facebook.com slash, ad esempio la mia pagina franco games 92, eccetera eccetera. E qua mette i cpc, ovvero sarebbero i punti che noi mettiamo a disposizione se loro faranno appunto questa operazione. Questi cpc possono andare da un minimo di 2 ad un massimo di 10. Io solitamente faccio così per i like, in generale, metto dai 2 ai 3, perché comunque alla fine sono sempre dei mi piace, quindi roba da niente. Mettere invece, se si tratta di un'iscrizione o di metto come un video tra i preferiti, comunque metto dai 5 in su, solitamente un 7-8. Poi, una volta che comunque noi cederemo questi punti agli altri utenti, questi punti appunto andranno a scalare, perché appunto ci sottrarranno questi cpc. Quindi noi dobbiamo sempre riguadagnare questi punti, e lo facciamo tramite Free Points. Appunto qui possiamo scegliere la modalità che più ci piace, ad esempio mettere mi piace le pagine di Facebook, condividere ad esempio dei post, mettere appunto mi piace in alcuni video, iscriverci ad alcuni canali, oppure addirittura mettere mi piace in alcune foto di Instagram, oppure seguire una persona su Instagram, ma c'è anche diciamo cose riguardate anche su Twitter, che comunque la metodologia è sempre lo stesso, infatti per aver visto in diretta praticamente forse mi ha appena scalato i cpc dei punti. Io infatti oggi mi sono registrato appunto su questo sito, ho fatto queste operazioni, sono passato dal mio canale dai 78 iscritti, sono passato appunto a 100 iscritti, che comunque è un paio d'ore, comunque è già tanto devo dire. Poi comunque anche nei video, praticamente sono passato da un mi piace che avevo nel video, sono passato fino a 21 mi piace e 167 visualizzazioni. Poi l'altro che vi propongo appunto è itelip.com, sempre qui facciamo il nostro login, che comunque non ricordo al momento, intanto mi arrivano i messaggi su Whatsapp. Allora, vediamo se ricordo bene le login. Perfetto. Qui noi intanto dovremo aggiungere dei siti che vogliamo, cioè in pratica vi spiega che forse è meglio come funziona questo sito. In pratica noi andiamo a collegare delle pagine e tramite questo sito e noi faremo delle visualizzazioni così casuali, ogni tot di secondi, che noi andiamo ad impostare. E praticamente, in quanto ho capito, questo sito poi ad ogni visita cambia forse addirittura cambia un IP, un po' come... non mi ricordo il nome dell'applicazione, che comunque fa un... che è un... un browser che comunque cambia... è IP praticamente continuamente. La stessa operazione praticamente fa questo sito e infatti qua basta andare ad aggiungere il sito che ci interessa comunque il video e poi andare su traffic exchange, ok la mia pronuncia è terribile, e andare a scaricare questa applicazione, questo software che ho già prontamente scaricato ieri sera. Quindi lo avviamo e startiamo. Alla volta che noi avremo startato questa operazione, lui ogni tot di secondi farà visualizzare questo video. Quindi in questo modo aumenteranno le nostre visualizzazioni nei video in modo molto... cioè in modo esponenziale. E infatti nelle video di MotoGP, queste di cui sono passato da un... da un 15 visualizzazioni, sono passato a circa 130-140, lì il resto diciamo l'ho fatto con l'atto software. Quindi certo non sarà comunque un modo... diciamo ideale comunque per aumentare le visualizzazioni, perché comunque noi vorremmo sempre che queste visualizzazioni le avremmo sempre con gli utenti che comunque ci seguono, perché lo vogliono. Però comunque è sempre una via alternativa in un certo senso. Detto ciò, vi invito anche a di iscrivermi alla mia pagina di... non la pagina di Facebook, al mio canale, che è francogames92. E qui soprattutto troverete anche la mia pagina di Facebook e accanto di Twitter Google+. Spero che questo video vi sia interessato e vi sia anche utile. Quindi questo video giunge alla fine e vi saluto ragazzi. Ciao a tutti e alla prossima.